Sono preoccupato di quello che sta accadendo in Catalogna, a Barcellona, in Spagna. Siamo in contatto diretto non solo con la sindaca, con il vice sindaco, con Barcellona in Comù, con tante donne e uomini di Barcellona, ma non solo di Barcellona, con cui abbiamo rapporti stretti di fratellanza e anche di condivisione politica. Quindi il mio sostegno totale al popolo catalano per le sofferenze che sta subendo, per una repressione inaccettabile e per la lotta di autonomia e di sovranità. Chiarisco, come più volte ho detto, che non entro nel tema dell'indipendenza perché è furviante. Quello è un tema che mi auguro venga trattato a livello politico tra le autorità del governo madrileno e le autorità del governo della Catalogna. E magari se avessimo un'Europa forte, che non si occupa solo di grandi poteri finanziari, l'Europa una funzione di mediazione in questo momento la potrebbe avere e potrebbe magari prenderla anche l'Italia col suo alto rappresentante per le politiche estere o comunque lo stesso presidente Tajani o lo stesso governo italiano. Sarebbe un bel messaggio se l'Italia, che ha rapporti così belli con la Spagna e chiaramente con la Catalogna, potesse svolgere un lavoro di mediazione. Che brutta cosa sarebbe se continuassero le manganellate per impedire a delle donne di andare a votare o proiettili di gomma per impedire agli anziani di andare a votare. Chi attacca il popolo uccide la democrazia e che lo faccia un paese che sta nell'Unione Europea a cui noi siamo legatissimi, come la Spagna, qualcosa che ferisce. Quindi ci auguriamo che ci sia una mediazione politica da parte dell'Unione Europea immediatamente e magari che il governo italiano si facesse promotore di tutto questo.